Sono stati letti i revisori dei conti del Comune dopo una lunga interruzione dovuta all'invasione dell'Aula da parte dei lavoratori dei cantieri di servizio in protesta. Ristabilito l'ordine da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Leila Montagnino, si è proceduto alla votazione. Gli eletti Andrea Ferrante, Presidente del Collegio, con 8 voti, Piero Ribaudo con 7 e Claudio Di Vincenzo con 7. Spaccature e divisioni all'interno della maggioranza e anche dell'opposizione, sorprendentemente fuori uno degli uscenti, Fausto Senato, che avrebbe dovuto ottenere consensi sia da maggioranza che da opposizione. Due le schede bianche, una delle quali votata dal Consigliere Magri in dissenso con la normativa per l'elezione dell'organo collegiale. E' stato votato negativamente anche l'emendamento che proponeva la riduzione del 20%, la riduzione dello stipendio dei revisori. 1.100 euro al mese per i componenti, qualcosa in più per il Presidente. Il primo punto che riguardava il bilancio 2014 è stato riviato alla prossima seduta utile fissata per giovedì 16 alle 17.30.